Scandalo assenteismo al Ruggi. Sulla vicenda è stato presentato un altro doppio esposto, uno a Salerno e l'altro presso la Procura di Napoli. Nelle denunce si parla di medici che hanno operato senza contratto e altri che avrebbero beneficiato di denaro non avendone diritto. E mentre domani si riunisce la Commissione disciplinare sulle persone sospese dal servizio, al centro delle denunce arrivate sui tavoli dei magistrati inquirenti qualche giorno fa, emergerebbero una serie di anomalie riscontrate all'interno dell'ospedale salernitano. Primo su tutti il mancato rispetto del decreto regionale del 2013 che prevede l'uso dei beige per tutto il personale dell'azienda. Sotto osservazione, secondo quanto emerso dalla denuncia, sono finiti professori associati, ricercatori e ordinari che da quando è stato emesso il regolamento non avrebbero timbrato il cartellino delle presenze all'interno dell'azienda. E addirittura nell'esposto ci sarebbe un professore ordinario di medicina legale, titolare di una struttura ma senza personale, che avrebbe ricevuto emolumenti in assenza della tracciabilità degli orari di lavoro e delle presenze. L'esposto a Napoli riguarda proprio questo aspetto della vicenda, perché la competenza del controllo su tutto spetterebbe di fatto alla Commissione regionale per la sanità. Ma c'è dell'altro. Un consulente di ossetricia e ginecologia, già coinvolto in processi giudiziari, ha operato in azienda senza contratto di lavoro e quindi scoperto di assicurazione, mettendo in stato di insicurezza gli stessi pazienti, oltre alle attrezzature private per gli interventi di stereoscopia che sarebbero stati effettuati presso l'ospedale di Cava dei Tirreni. In attesa del vertice del 20 novembre, quando controllori e controllati avvieranno una tavola rotonda sull'orario di lavoro per il personale dell'azienda, domani la Commissione disciplinare avvierà le procedure amministrative a carico dei dipendenti, sospesi due mesi fa.